E quindi noi vediamo la nostra condizione di vita stagnanti nel migliore dei casi, in certi casi ci diciamo i figli stanno peggio dei genitori e vediamo questi paesi che stanno, avendo oggi questa fase di boom e di crescita, li vediamo così dinamici, li vediamo costruire, sono, assomigliano all'Italia che dagli anni 40 agli anni 60 guadagna 15 milioni di abitanti e li vediamo come dei posti, e beh certo che in Cina vorremmo essere governati da uno come Putin, oggi si dice un po' meno, ma fino a qualche anno fa era piuttosto popolare, C'erano le pagine dei meme, c'era Salvini con la maglietta di Putin, però poi io non conosco diciamo fenomeni del Kodal, frontiera russa per accogliere gli italiani, poi in realtà non ci andiamo a vivere mai in questi posti, non andiamo a vivere mai in Turchia, in Russia, in Cina, in massa, e anzi al contrario le nostre città hanno ormai tutte delle comunità cinesi numerosissime, i russi vengono a fare le vacanze qua, noi non andiamo a fare le vacanze in Russia, e quindi è proprio una questione di debolezza intellettuale, secondo me, più che di crisi dei modelli. Ciao Francesco e benvenuto al podcast. Ciao Daniele, grazie. Senti, nel profilo che ti ha dedicato il New Yorker, a un certo punto dici che quando hai un nuovo lavoro in Italia i colleghi ti dicono come prima cosa di non lavorare troppo perché altrimenti poi i capi chiederanno anche a loro di lavorare di più. Ti è capitata questa cosa effettivamente? È un clima che si respira? Non credo che capiti dappertutto, a me effettivamente è capitato, poi adesso non ti dirò dove, però sai uno arriva in un nuovo lavoro, sei giovane e ovviamente ti viene chiesto 5 di fare 6, no? E però quando fai 6 qualche collega ti dice stai calmo, che se no poi diciamo a tutti viene chiesto di fare 6, noi siamo qui che diciamo che siamo troppo pochi per fare 5, dobbiamo fare 4 o 3, arrivi tu e fai 6 e diventa complicato. Sì esatto, e oggi quanto lavori? Oggi quanto lavoro? In termini orari lavoro secondo me non troppo, poi ognuno ha i suoi standard, ma la mia giornata comincia dall'unedì al venerdì alle 5 del mattino che è l'orario in cui comincio a fare morning, la rassegna stampa che faccio per il post da due anni, poi nel corso della giornata continuo a lavorare al posto o ad altre cose mie, dai libri, ai contenuti di YouTube eccetera, cerco di chiudere le cose lavorative tra le 17 e le 18 nella gran parte delle giornate e poi capita che anche partecipi a un incontro dal vivo, faccio una presentazione del libro, mi capita anche di fare incontri che molto spesso sono serali per cui cerco di una o due volte alla settimana non di più di fare una di queste cose per cui magari lavoro anche la sera perché sono a Parma a presentare il libro da qualche altra parte e lo stesso vale a volte per i weekend che è il periodo in cui si concentrano i festival e gli eventi col pubblico, per cui sono un monte di ore che non è irrilevante dalle 5 alle 18, in mezzo però metteci il pranzo, se sono a lavorare da casa un pisolino per recuperare diciamo dalla sveglia molto presto, non credo di lavorare tanto, credo di fare tante cose, quello sì. E secondo te sarebbe stato possibile fare il tuo percorso in un grande giornale classico italiano? Non lo so, credo di no, credo di no perché lavorare in un giornale piccolo, io lavoro al posto da quando è nato quindi meno che piccolo, appena nato mi ha dato la possibilità di imparare tantissime cose per il fatto che eravamo in pochi, bisognava far tutto e quindi anche avere responsabilità che di solito non ti vengono date ma anche con ottime ragioni in un giornale più grande. Dall'altra parte i giornali più grandi anche quando poi hai cominciato, io ho tanti colleghi che reputo molto bravi che hanno più o meno la mia età, io ho quasi 40 anni, non li vedo in posizioni di responsabilità e di leadership nonostante siano molto bravi e se vai a vedere l'età media dei corrispondenti per esempio o degli inviati, è un'età media per non parlare dei direttori, dei vice direttori, ci sono dei quarantenni ma sono pochi e quindi fare un podcast quotidiano, avere questo ruolo anche un po' di faccia del giornale, non da solo però ce l'ho con Luca, con altri, difficilmente sarebbe successo in un grande giornale, sicuramente, molto bene. E poi diciamo un'altra questione fondamentale è anche essere, non so se nativi digitali al termine giusto però essere cresciuti professionalmente anche con internet che è un altro mondo in un certo senso, cioè tu pensi che avresti avuto la stessa carriera in un mondo senza internet venendo da dove vieni con la tua storia personale eccetera? Allora sai non lo so perché un mondo senza internet se fosse stato il 2020, 2021, 22, 23 o quando ho cominciato era il 2007, 2008 senza internet non ce l'avrei mai fatta perché all'epoca i giornalei avevano già le porte molto chiuse essendo già in crisi da tempo e quindi sarebbe stato molto difficile trovare un posto se non avessi potuto farmi conoscere prima col mio lavoro grazie alla possibilità che ti dai il web di produrre del tuo contenuto. Se parliamo invece della vera epoca pre-internet e quindi degli anni, non so, degli anni 70, degli anni 80, all'epoca era molto più facile rispetto a oggi fare questo mestiere ed era anche un mestiere ancora piuttosto ricco per cui avrei guadagnato molto di più se avessi fatto questo mestiere negli anni 70 nonostante non ci fosse stato internet era ancora un periodo di vacche grasse, ecco. Poi ti sono arrivate offerte da grandi giornali? Sai che qualcosa si è mosso soltanto nell'ultimo anno, anno e mezzo prima durante tutti gli anni del post un po' perché io sono visto ma è anche giusto che è vero un po' come sposato col post comunque non è soltanto un posto di lavoro per me è un giornale che ho contribuito a fondare ci sono dall'inizio è una missione diciamo di cui mi sento investito e quindi forse anche per questo nell'ultimo anno, anno e mezzo qualcosa si è mosso però diciamo pur essendo molto lusingato non ho motivo di andare a lavorare in un giornale diverso dal post Prima non ti perdonavano, l'ho spiegato bene Beh adesso faccio una rassenga stampa in cui ogni tanto gliele ammollo anche diciamo sempre cerco con argomenti e con educazione però so che Morning è molto ascoltata nelle redazioni anche perché è una rassenga stampa e quindi tra colleghi poi ci si ascolta e ci sono tante persone che lo apprezzano, lo ascoltano, non tutti ovviamente prendono allo stesso modo quel tipo di approccio anche al lavoro dei colleghi e quindi ci sono anche altre cose che non mi perdonano a parte l'ho spiegato bene però nell'ultimo anno, anno e mezzo diciamo ecco qualcosa anche in questi grossi gruppi editoriali si è mosso E quali sono le altre cose che non ti perdonano? Quali sono? Beh sai noi siamo stati gli ultimi arrivati, per certi versi i primi nel senso che quando il post nasce non ci sono giornali online nativi online in Italia, non c'è l'inchiesta, non c'è lettera 43 che poi è chiuso, non c'è l'Huffington Post, ci sono soltanto le versioni online dei giornali cartacei e noi ci siamo interrati in questo mercato con un approccio che tra le altre cose era fatto di, essendo piccolini e non avendo grandi forze, lavorare molto con il lavoro degli altri e quindi aggregare notizie che però non erano state prodotte da noi o trovate da noi fare verifica, fat checking di cose che però non erano per noi di prima mano ed è un lavoro che non ha niente di particolarmente straordinario e normale nell'era del web in cui hai così tante informazioni che diventa un lavoro giornalistico molto prezioso anche scremare, selezionare, fare da aggregatore, da DJ se vuoi, cioè scegliere, selezionare e verificare non è il lavoro giornalistico dei giornali di una volta, non è il lavoro giornalistico del reporting cioè andare a cercare le notizie e questo per un po' ci ha fatti considerare un po' come una specie di giornali di serie B il fatto che poi noi crediamo nel fatto che i giornali per informare devono anche raccontare, spiegare e rivelare anche un po' i meccanismi dell'informazione perché il modo in cui vengono date le notizie, viene raccontata la realtà, cambia la realtà ci porta ogni tanto a fare dei lavori di media analysis per esempio per cui dire perché questo titolo è stato fatto così, perché il giornale X ha pubblicato questa notizia falsa e nel mondo del giornalismo i giornalisti parlano continuamente del loro lavoro, ma mai in pubblico se non per elogiarsi, è una professione un po' corporativa il fatto che noi scrivessimo il giornale X ha scritto una cosa falsa ecco perché in qualche caso è stato interpretato come un gesto arrogante dagli ultimi arrivati oppure anche come una sorta di scorrettezza non avete rispetto per il lavoro delle persone, noi abbiamo rispetto per il lavoro delle persone però se un giornale scrive una cosa falsa, un giornale grande, letto, importante il lavoro di chi fa questo mestiere è anche correggerla o dirlo io faccio spesso l'esempio del telecronista della partita di calcio che qualsiasi cosa dica o non dica non ha nessuna conseguenza sulla partita la partita va avanti, se il telecronista dice delle fregnacce clamorose va avanti in ogni caso ugualmente se chi fa la cronaca della realtà dice delle fregnacce clamorose quelle fregnacce cambiano la realtà, piegano la realtà e quindi non bisogna soltanto stare attenti alla realtà nei termini in cui ti viene raccontata ma anche farsi qualche domanda e conoscere un po' cosa succede in cucina diciamo prima di ricevere il piatto quali sono gli incentivi economici per cui oggi i giornali preferiscono fare o non fare dire o non dire certe cose e raccontare questa cosa è un esercizio di trasparenza che poi ti porta anche a lavorare meglio perché sai che gli lettori riconoscono i criteri per cui tu magari un pezzo lo fai o non lo fai lo titoli in un modo o lo titoli in un altro modo ma secondo te questa tendenza, anzi non solo secondo te, probabilmente conoscerei anche i dati si registra uguale anche negli altri paesi occidentali diciamo questa tendenza della macchina editoriale a durare finché durano i nostri lettori e poi dopo vabbè non sarà un problema nostro e contestualmente neanche far emergere diciamo nuovi soggetti, nuove firme, nuove persone diciamo che poi sono conosciute e amate dal pubblico allora ogni paese fa un po' storia a sé e non posso nemmeno dire di conoscerli tutti però credo di no, ho la sensazione che in Francia, in Spagna, in Germania, nel Regno Unito per non parlare degli Stati Uniti, non che non ci siano problemi della stampa ma ci sono dei problemi industriali che sono secondo me un po' meno gravi nel senso che c'è un pubblico più vasto innanzitutto i giornali hanno un mercato più grande in Italia il giornale che vende di più, che è il Corriere della Sera venderà 200.000 copie, 250.000 copie in un paese da 60 milioni di abitanti e quindi avendo un mercato più grande hanno qualche difficoltà in meno e tentano di più di superare quei problemi inventandosi nuove cose e accaparrandosi le cose nuove che trovano in giro prima degli altri questa cosa in Italia si fa meno ed è una questione che noi ora stiamo affrontando qui parlando del giornalismo ma che probabilmente può attivare anche rispetto a tanti altri settori è una questione culturale, politica, di struttura del paese infatti ha anticipato la mia domanda successiva che a questo punto sarebbe stata questa cosa ha questo paese nei confronti... non si può neanche più dire dei giovani perché a 40 anni non sei giovane, sei giovane solo in Italia diciamo anagrificamente sei un uomo o una donna, propriamente detti quindi un adulto cosa c'è nell'acqua? bella domanda è difficile dare una risposta univoca è una grossa questione culturale che ha una risposta secondo me soltanto parzialmente anagrafica perché la risposta facile secondo me sarebbe dirti sono pochi i giovani sono veramente pochi l'Italia è il paese più anziano del mondo, Giappone escluso e quindi una comunità così anziana è inevitabilmente una comunità che vede il futuro come qualcosa di... che non gli appartiene tanto o che spaventa, che spaventa molto mentre guarda molto al passato in realtà la mia esperienza è che questo tipo di atteggiamento e di pensiero esiste molto anche tra le persone più giovani nostalgiche di un passato che non hanno vissuto come era buono il pane di una volta che non hanno mai assaggiato ho l'idea che 20-30 anni fa non so, l'aria fosse più pulita l'aria faceva schifo 30 anni fa a Milano era irrespirabile ancora più di oggi e si mangiavano delle cose molto meno salutari di oggi sì esatto, forse il pane non era granché il pane non era granché e così vale, questo vale per mille altre cose quindi non è soltanto una questione anagrafica è una questione culturale di paura del cambiamento quindi qua ad esempio siamo a Roma e qua attorno c'è tantissimo turismo tantissimi americani quelli ci sono da sempre diciamo più o meno da quando esiste l'America no esagero però da 900 in oltrato gli americani qui ci sono sempre stati ora sono veramente tanti però vedi proprio come sono appassionati al periodo, il famoso periodo della dolce vita nel 50-60 vanno in giro con la Vespetta con l'Ape queste cose qui cioè è come se l'immaginario di questo paese non solo per noi ma anche per i stranieri si fosse bloccato in un'epoca in quell'epoca specifica con poco altro dopo e non fosse più in grado di immaginarsi un futuro diciamo da protagonisti in un altro modo e questo anche lo vedi quando ti confronti con i media stranieri o cercano il folklore o invece con le produzioni cinematografiche cercano questo genere di cose non vogliono vedere una storia ambientata in Italia dove non lo so sviluppano della tecnologia per dire o un altro tema non tipicamente italiano che non ha a che fare col Vaticano la mafia o il folklore spesso e volentieri ma questo è vero è vero anche che secondo me in questo un po' tutto il mondo è paese nel senso che gli italiani e l'Italia viene molto raccontato in questo modo qui pizza mandolino o appunto la dolce vita eccetera pensiamo a come noi a volte dipingiamo gli altri paesi e le altre culture spesso associamo questo tipo di stereotipi l'americano armato a fine denti è obeso i tedeschi cartoffen birra gli spagnoli gli inglesi e i francesi ognuno con i suoi luoghi comuni i suoi stereotipi è un po' un po' inevitabile è vero che abbiamo una capacità di autoracconto secondo me come popolo che è poca fantasia lo vediamo anche nei nostri prodotti culturali rivolti a noi stessi le commedie o i film che raccontano la vita dei 30-40 anni italiani tendono ad assomigliarsi molto e tendono ad avere una narrazione sempre un po' non so come dire triste afflitta del nostro destino cioè ci raccontiamo anche come un paese in declino e questo fa sì che poi le nostre pagine migliori siano inevitabilmente quelle che abbiamo sfogliato un po' di tempo fa sì sì si passa diciamo dalle case sempre bellissime improbabili dei film sui 50-60 anni alla depressione di quelle sui 30-40 anni anche i trentenni quarantenni a volte vivono in delle case a Roma incredibili però c'è sempre questo sentimento un po' di afflizione che in parte descrive una cosa che c'è però la capacità che è un paese di autoraccontarsi e il modo in cui lo fa determina anche un po' il modo in cui è e questo esiste in un sacco di questioni quando John Fitzgerald Kennedy dice noi entro dieci anni andremo sulla luna e lo faremo così anche da misurare le nostre capacità le nostre abilità eccetera gli americani ci hanno creduto ed era una roba di propaganda certo ma gli americani sono i primi a credere alla loro stessa propaganda e si convincono di poter fare quelle cose così grandi a volte per questo ci riescono a volte vanno a schiantarsi e si illudono di poter fare delle cose impossibili tipo esportare la democrazia però loro credono molto a questa capacità perché se la raccontano in prima istanza noi ci raccontiamo invece altre storie sul nostro paese e in parte diventano delle profezie autoavveranti poi ovviamente ogni narrazione ha i suoi pregi e i suoi difetti io mi ricordo la prima volta che arrivai a New York e tra l'altro ero con i vostri competitor all'inchiesta con un collega dell'inchiesta e atterramo proprio JFK poi prendiamo un taxi e mi sembrava di essere arrivato in un paese del terzo mondo perché se tu vedi diciamo i quartieri che ci sono subito dopo l'aeroporto vedi le scene veramente almeno al tempo era 2015 2016 a cui non sei particolarmente abituato in Europa e poi ovviamente arriviamo a Natta come nei film però c'è tutta una parte di America che loro normalmente nei film non raccontano e da questo punto di vista aiuta il giornalismo magari aiuta il giornalismo devo dire da qualche anno secondo me si vede anche soprattutto da quando ha vinto Trump la vittoria di Trump ha spinto molte delle elite delle coste a guardare con qualche attenzione in più a quello che avviene diciamo nella parte più centrale del paese o nelle periferie e quindi abbiamo visto qualcosa in termini di serie tv di film di romanzi ambientati in questa America un po' un po' di mezzo ma è vero è un'America che è stata a lungo poco raccontata poco seguita se non per a volte definirla la vera America no? che anche questo però è un grande equivoco nel senso che New York City proprio la città non lo stato da sola ha più abitanti di 40 dei 50 stati americani è un po' troppo grande per dire che non è la vera America il punto è che quello è un paese così grande così diverso che ogni posto è America a modo suo ed è America Manhattan ma è anche America la periferia di Manhattan che spesso è messa male certo sì sì assolutamente poi anzi con le grandi città spesso è delle identità totalmente diverse proprio cambiando da un bloc all'altro tipo Brooklyn ci sono i bloc degli ebrei ortodossi poi subito di fianco invece quelli più afroamericani la differenza alle volte è veramente da devi attraversare una strada e cambia un mondo incredibile questo accade anche per come si è costruito la cosa che noi oggi chiamiamo il popolo statunitense quella è una popolazione che con l'eccezione degli eredi dei popoli indigeni sterminati dal colonialismo europeo è tutto fatto soltanto da immigrati e da eredi di immigrati nipoti pronipoti Biden è mezzo irlandese Trump è mezzo tedesco Obama è mezzo keniano per dire quelli famosi ma queste persone che arrivavano ad ogni parte del mondo e a lungo sono arrivate trovando le porte aperte sulla base dell'idea che se tu volevi andare negli Stati Uniti ci scommettevi così tanto che poi quel paese doveva darti una chance ha creato un sacco di comunità e queste comunità finivano spesso per vivere insieme perché l'immigrazione funziona spesso come una sorta di catena tu vai a vivere in una certa città e scegli quel posto perché sai che trovi un tuo amico tua zia tuo cugino e quindi poi nascono quelli che poi a volte diventano anche dei ghetti ma oggi sono più spesso delle comunità molto geograficamente anche collocate se a questo aggiungi la segregazione invece urbanistica che è avvenuta negli Stati Uniti soprattutto dai anni 60 in poi dopo la legge sui diritti civili che ha fatto sì che i bianchi vivessero da una parte e i neri dall'altra ti capita molto questa cosa nelle città americane non solo che passi da un quartiere all'altro e ci sono i polacchi gli italiani i cinesi gli ebrei ortodossi gli afroamericani sì tra l'altro questa natura di paese diciamo di immigrazione nato dall'immigrazione secondo me si vede anche molto valorialmente se tu pensi cos'è la società americana i valori fondanti sono idea se tu lavori avrai successo diciamo diventerai ricco comunque diventerai una persona importante che è un ideale diciamo tipicamente proletario nel bene in senso positivo voglio dire è molto lontano dalle decadenze nobiliari o altoborghese europee e secondo me la loro forza e la loro debolezza è anche qui cioè che sono molto diretti molto dinamici molto più dinamici sicuramente che non in Europa e alle volte però gli manca un po' di nuance un po' di sfumature anche è molto buffo tutte le regole per fare cose le spiegazioni o il famoso adesivo sui come si chiamano sugli specchietti retrovisori sulle macchine gli oggetti inquadrati potrebbero essere più vicini di quello che sembra è una grande lezione di vita peraltro se tu ti trovi lezioni di vita dove non te le aspetti quella è una grande lezione di vita le cose che vedi nello specchio retrovisore sono più vicine di quanto sembrano ma ce ne sono anche altre c'è un cartello stradale che è molto comune soprattutto al nord che dice bridge may ice in cold weather quando fa molto freddo i ponti si congelano prima della strada è pieno di cose no è vero qualche un paio di anni fa ero negli stati uniti a fare un documentario con da zonna attorno alle cose del football dell'america confermo incredibile ed eravamo in questo posto ufficio della nfl e ci serviva per le riprese spostare una panca ma spostarla tipo di due metri da qui a qui siccome sapevamo e sappiamo che gli americani sono piuttosto rigidi piuttosto che farlo tanto non facevamo male a nessuno abbiamo chiesto il permesso a una persona della sicurezza possiamo spostare una panca da qui a lì e questa persona non ha saputo darci nessuna risposta e quindi ha telefonato al suo supervisor che ha telefonato a un altro e io credo che quella telefonata sia arrivata alla Casa Bianca per sapere se noi potevamo spostare quella panca o no alla fine l'abbia spostata perché non ci dicevano nulla questa è insubordinazione anarchia hanno una grande ingenuità ed è inteso sia in senso positivo che negativo è un'ingenuità nel senso di credere che ce la possono fare credere che tutto può andar bene e questa è una narrazione di cui loro si convincono e che poi gli permette spesso di farcela dall'altra parte noi ci viene da ridere quando dobbiamo rispondere a quelle domande ha intenzione di fare un attentato terroristico quelle che erano prima di andare negli Stati Uniti ma è un tipo di approccio tutto è sempre molto spiegato ci sono un sacco di regole devi rispettare le regole finché rispetti le regole va tutto bene se non rispetti le regole passi dei guai e questo fa parte del loro contratto sociale diciamo e poi c'è l'idea di fondo totalmente diversa dalla nostra che il sistema funziona di base magari negli ultimi anni con la polarizzazione questa cosa sta avvenendo un po' meno ma fino a poco tempo fa credo che l'americano indipendentemente se fosse democratico o repubblicano avesse l'idea che tutto sommato il sistema funziona e se tu stai avendo qualche problema la responsabilità è tua esatto il contrario di quello che si pensa in Italia quando poi in realtà in certi casi è così in certi altri no nel senso che se sei nero non è tanto responsabilità tua perché sei nato in un certo quartiere se sei nero prevede la segreazione urbanistica hai dovuto studiare in scuole meno ricche di altre e quindi se poi fai una carriera peggiore di un altro non è responsabilità tua ma il tuo destino in qualche modo in parte è già segnato dall'altro lato loro ti dicono anche che il sistema effettivamente ha funzionato che non vuol dire che fosse perfetto che non avesse dei problemi o che non ce li avesse adesso però con quale sistema altro vorresti fare a cambio si dicono loro e non si danno nessuna risposta questo è il sistema che ha creato la più grande economia del pianeta un'economia in cui gli insegnanti guadagnano 60.000 dollari l'anno non è che sono ricchi però sono più di quelli che prendono insegnanti qui in cui la classe media non i mega ricchi la classe media sta meglio della nostra classe media e c'è una possibilità di entrarci se ti dai da fare poi ripeto il campo da gioco a volte è un po' truccato a volte è un po' obliquo non è tutto eco anzi però quella chance gli dà una grande speranza è il motivo per cui spesso i più nazionalisti e più orgogliosi di essere americani sono gli immigrati sono quelli che sono arrivati piuttosto che quelli che ci sono nati certo sì che poi sono gli stessi che ritengono ancora l'America il posto più ambito nel senso che se tu vieni da un paese che ha scarsa libertà o un'economia debole o diciamo dei problemi di lungo corso il punto di destinazione preferito in assoluto rimangono ancora gli Stati Uniti non ci sono milioni di persone che provano in tutti i modi a entrare in Cina ci sono milioni di persone che provano in tutti i modi a entrare negli Stati Uniti e diciamo questo ci dice qualcosa tra l'altro per noi europei invece il sistema offre anche un vantaggio competitivo se tu studi in Europa quindi utilizzi diciamo delle scuole delle università pubbliche di alto livello e poi magari ti spendi quelle competenze negli Stati Uniti dove la stessa formazione costerebbe tantissimo invece questa è una è una loro grande forza nei periodi dell'anno nel periodo dell'anno in cui si assegnano i premi Nobel se poi vai a leggere la lista di chi vince questi premi Nobel sono quasi sempre persone che hanno studiato o hanno insegnato o hanno fatto ricerca o fanno ricerca o hanno fatto la cosa per cui vincono il Nobel negli Stati Uniti ma non sono quasi mai sono americani sono scienziati ricercatori parlo dei Nobel quelli scientifici la fisica la chimica che nati in altri paesi magari formati in altri paesi ma che poi lì trovano il contesto per essere ambiziosi e fare la cosa che cambierà la loro vita e quella di un sacco di altre persone questa è una loro grande forza cioè Hollywood perché il sistema l'industria dell'intrattenimento più grande del mondo perché gli americani sono molto bravi a fare quella cosa lì sì ma quanti film americani blockbuster hanno il regista canadese l'attrice francese il direttore della fotografia tedesco perché se sei molto bravo in quello che fai magari ti sei formato nel tuo paese ma quello è il posto in cui puoi essere ambizioso e fare pensare in grande e realizzare cose grandi sì infatti quando noi avevamo il grande cinema italiano ormai decenni fa i nostri registi erano sempre chiamati poi magari non ci andavano Fellini non l'ha mai voluto fare però è stato più volte erano delle star a Hollywood sì sì assolutamente c'è una capacità di attrazione che non si può dire dell'Italia noi non abbiamo la capacità di attrarre talento esterno diciamo almeno non dai paesi ricchi magari c'è gente che comunque rispetta proprio il paese qua c'è anche una speranza quello sì però a livello universitario di ricerca o diciamo di aziende settori di questo genere assolutamente no lo vediamo nei dati non tanto quelli dei cosiddetti cervelli in fuga ma nella nostra capacità di attirare cervelli studenti universitari non per forza dagli Stati Uniti ma dalla Svizzera dalla Francia dalla Germania il rimpicciolimento del mondo causato dalla globalizzazione per cui diventa molto più facile viaggiare in Europa poi non ci sono più i confini le frontiere c'è la stessa moneta i voli costano poco ha esteso moltissimo la concorrenza nei confronti per esempio delle università italiane dei laboratori di ricerca italiani per cui oggi un ricercatore non deve scegliere come era magari negli anni 70 tra i 4-5 migliori atenei d'Italia può facilmente pensare di andare a fare il ricercatore a Liegi o a Colonia e quella concorrenza è una concorrenza a cui il nostro sistema per esempio con l'accademico non era pronto tuttora non è pronto ci sono altri settori in cui invece magari brilliamo più noi perché abbiamo un'economia più forte ma anche la moda il design per certi versi però sono più delle eccezioni che la regola secondo me sì sì assolutamente ma il tuo ultimo libro è sulla California ed è molto interessante perché la California diciamo è lo stato più ricco degli Stati Uniti se non erro giusto e diciamo anche quello dove c'è la Silicon Valley quindi più avanzato tecnologicamente però negli ultimi anni diciamo questo modello ha anche mostrato diciamo dei momenti ha dei problemi sostanzialmente che non significa che sia tutto da buttare però è interessante anche capire quali sono i punti di frizione cosa sta succedendo secondo te qual è il principale adesso problema della California anche un po' come metafora degli Stati Uniti la cosa interessante è che è paradossale che è una crisi quasi unica per esempio molto diversa dalla nostra la California non ha un vero debito pubblico e anzi fa un surplus di bilancio ogni anno è un posto pieno di opportunità chiunque vuole lavorare lavora ha delle grandi industrie globali tu prima parlavi della Silicon Valley io prima citavo Hollywood entrambi sono in California c'è l'industria agricola vastissima anche in Italia se vai al supermercato è nel settore della frutta secca guardi dove vendono le mani spesso vengono dalla California è un posto dove l'innovazione di casa che attrae un sacco di persone da fuori ha alcune tra le migliori università del pianeta pensiamo a Stanford a Berkeley quindi un contesto molto diverso da quello in cui magari ci sentiamo noi eppure questo successo e questa crescita non adeguatamente gestita ha creato un contesto per cui la classe media è strizzata da prezzi incredibili soprattutto per quanto riguarda le case questa montagna di persone che sono arrivate dagli anni 90 in poi soprattutto non ha corrisposto a un forte programma di sviluppo immobiliare non di grandi case le classiche case degli americani perché quelle le costruiscono le case monofamiliari la billetta il giardino il canestro ma di appartamenti di palazzine da 3-5 piani come è normale in Italia e quindi tu atterri a Los Angeles atterri a San Francisco e vedi dall'altro dall'alto questa specie di città che è come se fosse stata spalmata con un coltello spalmata in orizzontale più che in verticale è un modo molto inefficiente di utilizzare lo spazio un modo che riduce l'offerta di abitazioni e oggi per vivere a San Francisco a Los Angeles devi spendere così tanti soldi che San Francisco se tu guadagni come nucleo familiare di quattro persone meno di 100.000 dollari sei considerato povero hai diritto a dei sussidi però se uno stato deve pagare dei sussidi a chi guadagna 100.000 dollari l'anno qualcosa non funziona quella persona dovrebbe essere in grado di mantenersi da sole e quel risorso essere diretti a chi davvero ha molto poco o a meno alle persone senza tetto per esempio è un esempio la California di come la crescita economica è necessaria per avere una società che funziona se non hai il scuole gli ospedali ma non sufficiente se non hai un'idea chiara politica di come gestirla di come distribuirla di come far sì che le persone possano continuare a trovare opportunità nel posto che ne ha creato così tante in passato sì un'altra cosa che influisce molto credo su quel genere di reddito che facevi riferimento tu sono anche debiti universitari che è un fenomeno che negli ultimi anni ha raggiunto delle dimensioni finisce per strozzare poi le persone che hanno conseguito i titoli di studio universitari però poi non riescono a ripagare quello che gli sono costati che costano comunque molto se vuoi questo è un altro esempio di un successo che ha creato dei problemi nel senso che le università americane costano molto sono anche università di livello stellare anche soltanto infrastrutturale che è stato in un campus universitario americano piuttosto sbalordito la prima volta che lo vede a livello di istruzione accademica di qualità e quindi il patto è sempre stato tu indebitati paga 80-70 mila dollari l'anno fai un mutuo le banche danni mutui per pagare un'università ma tanto lo sai che una volta uscito da qui con questa laurea avrai un lavoro ottimo e ripagherai quel mutuo con grande facilità e questo gioco ha funzionato a lungo ha smesso di funzionare o meglio con questa puntualità quando è esploso il numero dei laureati che è una cosa molto positiva nel senso mi sembra che dovremmo tutti sperare una società che dia opportunità a tutti e che più persone si laureino eccetera però l'esplosione del numero dei laureati è un'economia che ha cominciato a esternalizzare invece tutte le professioni che non richiedono un'altra istruzione quindi le macchine le facciamo in Messico o la merce la compriamo dalla Cina ha fatto sì che non ci fossero abbastanza posti di lavoro per queste persone che quindi dovevano accontentarsi di posti di lavoro che ti fanno guadagnare di meno e a quel punto quel debito lì sì che diventa un mascingo insostenibile se questo aggiungi l'11 settembre la crisi di Lehman Brothers del 2010 cioè abbiamo avuto una serie di shock noi come pianeta gli Stati Uniti soprattutto economici fortissimi c'è una generazione che poi peraltro è molto spesso diciamo la nostra c'è quella dei millennial che ne ha prese parecchie di mazzate e che in cui il debito universitario per loro rappresenta una delle principali adesso hanno fatto qualcosa in termini di durante la pandemia di sospensione delle rate di questi mutui adesso anche di estinzione li hai ripagati lo Stato in sostanza soprattutto per chi guadagna poco però è una è una pezza è un cerotto sì in più le banche sono molto propense a darti anche delle carte di credito quando sei studente che immaginati non so te ma se io avessi ricevuto una carta di credito con non so che limiti a vent'anni mi sarei rovinato ulteriormente credo è una società che compra e consuma tantissimo la forza di quell'economia è basata sul consumo interno molto più che sulle esportazioni come magari invece il nostro caso e quindi è una società che che compra che compra che compra in continuazione a debito spesso le famiglie le persone hanno 3-4 carte di credito spesso hanno le carte di credito quelle lì revolving per cui con il pagamento rateale automatico perché non ti rendi conto nemmeno di quanto stai spendendo e ci si abita a un certo punto a vivere sotto zero diciamo a vivere costantemente inseguendo le rate dei debiti magari finché lavori riesci a stare a galla e a organizzarti a gestirti quando arriva una grossa crisi economica quando arriva la pandemia in un paese che non ha un vero welfare come il nostro come quello europeo le persone cominciano a cadere dentro queste crepe una dopo l'altra il sogno americano si basa su questa grande quantità di opportunità che puoi trovare anche se non vieni da nessuna famiglia importante se non hai delle conoscenze te la puoi giocare e ce la puoi fare ed è vero che ce la puoi fare se non ce la fai c'è una punizione e una sanzione sociale durissima il fenomeno di senza letto di cui parlavo poco fa è esemplare di questo noi siamo abituati all'idea perché poi in Italia è così che se tu finisci per vivere per strada nella tua vita non è che è andata male una cosa sono andate male una serie di cose perché quello è l'ultimo passo non è che hai solo perso il lavoro perché hai un miliardo di strumenti senza contare che hai delle reti familiari sociali molto più fitte negli Stati Uniti invece spesso quello è il primo passo ti aumenta l'affitto non te lo puoi permettere non trovi una casa perché se vivi in un posto come San Francisco non c'è hai un problema di tossicodipendenza devi chiudere un matrimonio con un marito violento finisci facilmente per strada non hai un piano B e una volta che finisci per strada uscirne è complicatissimo ah sì ma tra l'altro tu parli molto delle case del mercato immobiliare nel libro e risolvi anche un'annosa questione che mi sono sempre chiesto come tante persone perché ci sono ancora le case di legno in America perché perché la risposta a che fare anche questa con noi europei che arrivamo in gran numero quando diciamo cominciò prima il colonialismo e poi appunto gli vari insediamenti dei francesi degli olandesi dei tedeschi e c'era bisogno di costruire delle case di costruirle molto in fretta anche senza una mano d'opera particolarmente qualificata e lì negli Stati Uniti hai una risorsa praticamente infinita o quasi che è il legname il legno poi oggi chiaramente non è infinita però insomma hanno una quantità di disponibilità sì amplissima queste case si costruiscono molto in fretta non hanno bisogno appunto di grandi professionalità presentano anche qualche vantaggio diciamo oltre a costare molto meno sono più resistenti di quanto si pensi cioè se se c'è un grande incendio l'incendio brucia anche i grattacieli come abbiamo visto di cemento armato e devi scappare se c'è una una grande calamità naturale un uragano devi comunque scappare e soprattutto sono fenomeni che per quanto avvengono con una certa frequenza negli Stati Uniti noi ne leggiamo sui giornali gli Stati Uniti sono un posto gigantesco di nuove quindi credo che si calcoli che è lo 0, qualcosa per cento delle case americane ogni anno finisca per essere sul tragitto di un uragano o di un tornado per cui hanno ovviamente un sacco di controindicazioni quando c'è un incendio bruciano molto più facilmente hanno insetti viettarme sono molto poco isolate dall'esterno e quindi inefficienti sul piano energetico però si tirano su con grande facilità si ristrutturano si ricostruiscono con grande facilità per lo stesso principio di prima di quanto gli americani amino consumare è un tipo di casa che a loro piace molto appunto buttano giù ricostruiscono sai quelli programmi di cui sono drogato home and garden tv in cui ristrutturano le case cioè qua si buttano giù le pareti e tutto nell'arco di davvero pochi giorni fanno una casa completamente diversa questa cosa la puoi fare con queste case gli americani i dati dicono che in media un americano trasloca cambia casa nel corso della sua vita undici volte in media appena hai due soldi in più vai in una casa che ha una stanza in più appena hai due soldi in meno cambi casa di nuovo è tutto molto più dinamico anche da quel punto di vista e le case di legno quindi si prestano molto a questo tipo di società fluida diciamo così sì avevo visto in canada nell'alberta delle case che poi finite sembravano le case diciamo così vere proprio come quelle a cui siamo abituati che in realtà erano tutte fatte con dei blocchi prefabbricati isolanti e quindi una casa di questo genere la costruisci molto in fretta anche e penso la smonti altrettanto rapidamente senti c'è una cosa molto interessante anche che citi nel tuo libro cioè il problema dell'omogeneità politica portato avanti per troppo tempo questa è una cosa che mi ha colpito perché io vengo da un territorio che ha avuto questo problema io sono nato e cresciuto fino a che non sono nato a un'università in Alto Adige che è stato governato in tutto il secondo dopoguerra dallo stesso partito e ho visto alcune dinamiche in piccolo che tu racconti per la California ed effettivamente diciamo si è arrivati a un livello di radicalizzazione in California che poi ha portato tanti anche gli stessi progressisti ad andare via negli ultimi anni è interessante questa cosa qui e in particolare due fenomeni citi tu un problema di ordine pubblico seguito a Black Lives Matter con The Found the Police e l'altra cosa anche diciamo la cancel culture applicata posti di lavoro agli ambienti diciamo professionali e come come vedi questi due fenomeni innanzitutto in California vengono attorno al partito democratico che governa con percentuali diciamo californiane stavo dicendo bulgare in realtà californiane dai anni 70 80 stabilmente lo stato e le principali città più che altro ha a che fare con quello che succede quando un partito quale che sia ha un dominio del genere potevamo fare questo discorso anche sull'Oklahoma con i repubblicani quello che succede è che il risultato delle elezioni è scontato è scritto in partenza si sa già chi vince e quindi la vera campagna elettorale quella in cui si discutono i temi le persone dicono la loro eccetera non è la campagna elettorale per l'elezione perché sai già chi vince e il vantaggio è così ampio diventa nel caso degli Stati Uniti l'elezione primaria con cui il partito vincente sceglie il proprio candidato o la propria candidata lì si fanno veramente i giochi perché chi vincerà quelle primarie poi diventerà il sindaco di San Francisco per esempio questo vuol dire che la campagna elettorale in cui si prendono davvero le decisioni e si tasta il polso dell'elettorato viene giocata in un pezzo molto piccolo e quindi anche non rappresentativo della popolazione che non è soltanto gli elettori del partito democratico ma i militanti quelli che poi vanno a votare alle primarie perché gli elettori del partito democratico sono tante cose diverse ma questo vale anche per noi quante persone votano in Italia per partiti in cui magari non si riconoscono non si riconoscono completamente solo perché l'altro è peggio è un'esperienza credo piuttosto comune questo con Trump in America credo che sia diventato proprio l'ordine del giorno esatto quindi non sono manco gli elettori del partito democratico sono i militanti e dato che è tutta una lotta interna innanzitutto l'esito di quella campagna elettorale non è effettivamente diciamo rappresentativo della popolazione e poi è tutta una lotta ad accusarsi di non essere abbastanza ortodosso perché qualsiasi forma di compromesso con l'avversario o con chi non la pensa come te è un cedimento è un tradimento è tutta una campagna elettorale giocata sulla purezza e quindi le risposte che la politica dà sono delle risposte a delle domande che però spesso l'elettorato non possiede in California tutto questo produce degli effetti particolarmente perversi credo possiamo anche essere d'accordo che l'alternanza al governo sia una cosa buona che non sia sano che una persona o un partito stiano per 40 anni al governo senza mai che ci sia un cambiamento perché fa parte del funzionamento sano di una democrazia e quando questo non accade per decenni questo però credo che sia una cosa sempre meno condivisa in tempi di polarizzazione politica certo perché basta che non governano quegli altri se governi tutta la vita va benissimo ma parliamo prima dei senza tetto a un certo punto qualche anno fa la California decise di nominare un commissario soltanto per monitorare e censire tutti i programmi rivolti ai senza tetto dello stato delle contè delle città insediano questo commissario che passa mesi a esaminare leggi report viaggiare eccetera e questo conclude il suo lavoro dicendo sentite io non ho capito quanto spendiamo ho contato non so 90 programmi diversi questo è quello che succede in un contesto dove governano sempre gli stessi perché se cambia il governo il nuovo governo deciderà di tenere alcune cose che c'erano prima e altre di non farle più non è che sia una selezione perfetta però si progredisce così si va a zig zag si fa un passo avanti un passo indietro non c'è niente di perfetto fare cose umane però si avanza in questo modo se invece non c'è mai quel momento di check vai sempre a sommare tutto si creano delle rendite di posizione delle sovrapposizioni delle ridondanze ora in California questo ha fatto sì che a fronte di problemi che esistono la politica ad essere delle risposte non funzionanti sbagliate e questo accade è accaduto per esempio con la questione della criminalità e dell'aumento pazzesco dei reati accaduto dal 2020 in poi dall'estate 2020 in poi da quando l'omicidio di George Floyd innesca una grande prezzo di coscienza da parte degli americani molto sana e opportuna rispetto al razzismo nella società americana ma la risposta poi in termini di policy che arriva è bisogna tagliare i fondi alla polizia quello che succede quando tu tagli i fondi alla polizia è che la polizia che hai meno agenti peggio addestrati e quando la polizia diventa il nemico in quanto tale gli agenti non hanno voglia di scendere dalle macchine non rispondono alle telefonate le persone non chiamano la polizia perché ne hanno paura e quello che succede è che aumentano i reati banalmente è una cosa piuttosto semplice ed è chiaro che questo non vuol dire teniamoci a loro i poliziotti razzisti ma se anzi vuoi avere più poliziotti formati meglio con un processo di selezione più rigoroso hai bisogno di più fondi per la polizia e semmai regole migliori e più repressive contro chi abusa del suo potere ma tagliare i fondi alla polizia o pensare che la società possa fare a meno delle forze dell'ordine è un pensiero popolare in una parte molto piccola della popolazione che però in California dà le carte e infatti si è visto su questo tema c'era anche un bel libro di Malcolm Gladwell il dilemma dello sconosciuto che analizzava proprio le dinamiche che ci sono quando un poliziotto diciamo un poliziotto benintenzionato non un poliziotto razzista ferma qualcuno per un controllo in un paese dove comunque tutti hanno le armi tutti possono avere armi non tutti hanno le armi per fortuna ma e diciamo lavorava molto su cosa si può migliorare proprio nei processi nella formazione della polizia oppure anche eliminando situazioni incredibili dove ci sono degli incentivi a fare i micro arresti proprio economici per far funzionare determinati carceri privati eccetera che poi creano tutta una serie di situazioni in cui una comunità aumenta tantissimo il grado di tensione interna con la comunità però diciamo era tutto un approccio di analisi precisa della situazione non demagogica non di carattere astratto come invece poi è successo con chi ha chiesto di semplicemente di levare fondi alla polizia che si potrebbe quello hanno fatto questo è il punto San Francisco e Los Angeles li hanno tagliati i fondi della polizia dopo sei mesi un anno li hanno ripristinati aumentati perché il numero di omicidi e di reati di furti era cresciuto ma così davvero sì sì comunque è interessante come si possa arrivare ai meccanismi appunto anche di ricatto ideologico che ti possono portare a prendere una decisione in piccolo è un po' il dibattito che c'è stato a Roma sul discorso del decoro urbano è chiaro che se non c'è decoro urbano chi ci rimette di più sono i quartieri popolari chiaramente questo però alle volte si associa diciamo il decoro a una questione di legalitarismo di destra o cose del genere e secondo me è un argomento debole perché sono appunto i quartieri popolari i primi che beneficiano quando c'è insomma le strade che funzionano l'immondizia che viene portata via ma certo ma questa è un grande è una grande ambiguità nel senso che la gentrificazione è un problema ma vediamo come succede il percorso di gentrificazione tu di solito hai un quartiere popolare appunto in cui le case costano tendenzialmente poco e a un certo punto comincia ad accadere qualcosa per cui più persone di prima vogliono andare a vivere in quel quartiere a volte perché costa poco e quindi ci vanno gli studenti ma gli studenti creano un quartiere che magari diventa culturalmente più vivace con qualche locale in più altre volte il comune ha deciso di sistemare i marciapiedi e le strade quindi quel posto è diventato un po' migliore in cui vivere altre volte sono migliorati i servizi è migliorata c'è un parco nuovo e tutto questo fa sì che più persone vogliono andare lì e avviene comincia ad avvenire quel meccanismo di gentrificazione per cui l'offerta di casa non è sufficiente salgono i prezzi perché io che abito in quel quartiere popolare scopro che magari la mia casa se la ristrutturo la posso vendere allora un prezzo più alto posso chiedere qualche soldo in più e voglio dire chi di noi quando vende casa non vuole accettare l'offerta più alta che c'è mi sembra una cosa piuttosto di buon senso però allora per combattere questo meccanismo di gentrificazione che poi porta i quartieri a diventare tutti uguali e i residenti solici essere espulsi bisogna difendere la situazione precedente cioè con le strade con le buche e i servizi che non ci sono questo è il dilemma di Roma perché Roma costerebbe molto di più già non è che costi poco però diciamo paragonata alle altre grandi capitali europee e al suo patrimonio artistico sarebbe del tutto inaffrontabile il centro e i quartieri accanto al centro già costano tanto ripeto ma se dei parametri a Parigi a Londra costano molto di meno e questo anche un po' purtroppo per effetto della pessimo stato in cui è tenuta la città questo è una cosa su cui la sinistra dico una frase che mi sembra critica a me volta ma la sinistra deve interrogarsi dirò questa cosa scusate perché dire tutto questo cioè che non puoi difendere il degrado come unica soluzione invece di uguaglianza vuol dire proprio dire una cosa di sinistra perché in realtà il meccanismo che ho descritto è un meccanismo in cui manca una cosa fondamentale che è l'intervento dello Stato e della politica cioè tutto è lasciato e i meccanismi e i cambiamenti sono lasciati alle conseguenze delle scelte delle persone quindi al mercato più gente vuole trasferirsi lì salgono i prezzi allora certo che dice no era meglio prima ma è lì che dovrebbe intervenire la politica allo Stato per governare questo percorso per cui se un quartiere sta attraendo più persone di prima dovrai tu politica intervenire per far sì che l'offerta di case non diventi immediatamente insufficiente e quindi migliori trasporti pubblici per rendere quel quartiere più più largo più più ampio politiche immobiliari che contengano case con affitti calmierati edilizie popolari pubbliche in Italia non si fa da quanto è che in Italia non si costruiscono case popolari si è fatto il 110% piuttosto si è fatto il 110% che è costato mezzo superbonus mezzo PNRR per ristrutturare il 4% degli immobili in Italia peraltro delle famiglie diciamo tendenzialmente più ricche esattamente manca proprio la cosa di sinistra la risposta di sinistra non è difendere il degrado è dire che in questo percorso di miglioramento delle qualità di un quartiere che è una cosa molto bella perché le persone che ci vuole innanzitutto perché quelle persone non siano delle vittime deve intervenire lo Stato deve intervenire il Comune la politica ma non impedendolo questo cambiamento governandolo e facendo sì che non crei ingiustizio che ne crei il minor numero possibile ovviamente nel frattempo però i californiani vanno in Texas cosa ha fatto bene il Texas che la California non ha fatto dunque da un certo punto di vista il Texas è un posto molto più variegato di come noi pensiamo innanzitutto perché è gigantesco il grande credo due volte è la Germania quindi non è che sia una cosa sola tutte le grandi città del Texas sono governate dai democratici anche con percentuali piuttosto importanti quindi non è un posto soltanto di bifolchi col cappello le armi e il bestiame poi ci sono anche anche quelli quindi in Texas in realtà chi arriva dalla California a volte trova una realtà che non è così diversa da quella che ha lasciato se vai a Austin ma che non avendo avuto la storia della California che è dai cercatori d'oro e poi il settore della difesa poi le comunicazioni e poi internet che ha avuto una serie di fortissime andate migratorie non ha questo tipo di mercato immobiliare drogato non ha questo tipo di struttura sociale così ingessata in Texas trovano poi una serie di circostanze favorevoli sul piano economico per dire la tassa sul reddito in Texas è zero zero cioè immagina quanto paghiamo noi di IRPEF 20 30 40 lì è zero al costo di avere dei servizi pubblici che sono più che scadenti indegni ma gli americani sono portati a pensare che devono essere loro a pensare ai loro servizi vuoi la pensione ti devi pagare la pensione integrativa vuoi la sanità te la devi pagare ovviamente quindi il fatto che abbiano dei servizi scadenti non gli importa perché poi tanto non è che in California invece abbiano una cosa simile al nostro servizio sanitario nazionale e quindi in Texas trovano un contesto molto più in cui le cose sono un po' più facili più libere c'è molto più spazio è molto più facile costruire uno dei problemi dell'offerta immobiliare californiale è che non si costruisce soltanto una città texana quella di Dallas ogni mese emette permessi per costruire nuove abitazioni superiori a quelli dell'intera California hanno anche tantissimo spazio è un paese quasi vuoto l'America e questo aiuta diciamo rispetto a quanto accade da noi sono grandi più della Cina però sono 300 milioni la Cina sono un miliardo e quasi miliardo e mezzo la California è più grande dell'Italia e sono 40 milioni sono meno di noi infatti uno dei temi interessanti veramente affrontati dell'Italia è quanti siamo in quanto poco spazio c'è una densità non so quanti paesi forse il Giappone sarà più denso dell'Italia sì no ci sono paesi più densi di noi anche perché noi purtroppo ci stiamo restringendo noi siamo meno 60 siamo 59 adesso e le prospettive non sono rose ma l'Italia paradossalmente l'Italia è vero che è densamente popolata ma non è l'Italia avrebbe bisogno di avere 10 milioni di abitanti in più per funzionare cioè siamo già oggi in un momento in cui e lo vediamo sui giornali non è una previsione futura non abbiamo medici non abbiamo infermieri non abbiamo saldatori non abbiamo operai non abbiamo insegnanti proprio per una questione diciamo anagrafica per la storia di essere il paese pensiero del mondo Giappone escluso queste persone ci servono e anche se da domani il tasso di natalità italiano per una qualche mettiamo delle pozioni amorose magiche negli acquedotti dovesse esplodere avremmo bisogno di aspettare che i nuovi bambini diventino adulti prima di avere questi nuovi insegnanti eccetera e convincerli a non andare all'estero a lavorare la risposta a questa domanda si chiama diciamo immigrazione però pensa se un politico dicesse abbiamo bisogno di 10 milioni di immigrati non credo che prenderebbe molti voti no non credo non credo no senti scusa il passaggio un po' repentino ma questione fondamentale Steph o Lebron Lebron te deluso non so se possiamo continuare questa conversazione no io sono invece un sostenitore di Kerry di ferro ma sentirò la tua raccomendazione perché è meglio Lebron la premessa è che non sono un esperto di pallacanestro e quindi conosco questi due personaggi più in quanto personaggi conoscono le loro storie ma non sono in grado di fare un'analisi tecnica del gioco so che Steph Curry ha cambiato il gioco del basket per certi versi più di quanto abbia cambiato Lebron rispetto all'utilizzo del tiro da tre però Lebron mi sembrano di quei a parte giocatori universali cioè che sa fare tutto oggi è una certa età ma sapeva fare tutto meglio di chiunque altro e poi la sua storia ha un'epica per cui diciamo quella di Kerry non puoi accostarla quella di uno che gioca nella scuola della sua città e poi li tradisce lo odiano tutti e va a Miami poi ritorna e fa vincere un titolo a Cleveland in quel modo incredibile con la stoppata quella è una storia così pazzesca in questo diciamo così americana e urla Cleveland this is for you quella è una roba da film come fai a non cedere a Lebron James no sono d'accordo sul fatto che è un giocatore che appunto come dici tu adesso ha un'età però sapeva fare tutto ancora adesso è forte ma prima era veramente devastante in qualsiasi cosa praticamente a me di Steph piace proprio la questione di come ha rivoluzionato il gioco ha avuto un impatto sul gioco che Lebron non ha avuto perché Lebron è il giocatore totale dello sport precedente è vero e Steph invece era proprio cambiato tra l'altro poverino adesso che hanno fatto un documentario assolutamente non all'altezza non so se hai visto a Kerry a Kerry no un documentario solo praticamente sugli anni dell'università lui giocò in questo college abbastanza piccolo sconosciuto e lo portò poi al torneo NCAA ma insomma niente rispetto a quello che ha fatto Nesto della carriera però poi chiaramente anche l'epica sociale è più importante per Lebron come upcoming perché lui era di origini molto più umili perché il padre di Kerry era un giocatore di basket dell'NBA però Lebron ad esempio a me non piace molto il carattere nel senso hai visto anche quando ha battuto il record di punti di Karim c'era in campo solo la sua famiglia i suoi compagni di squadra non sono andati ad abbracciarlo vuol dire che un po' si tratta di Ronaldo cristiano pochettino l'ultimo Lebron è il Lebron dei Lakers un Lebron che è davvero un'azienda tant'è che sceglie probabilmente Los Angeles anche perché poi fa Space Jam perché il futuro suo è in quel mondo lì e quindi sì forse anche un po' una deriva a Ronaldo e dall'altra parte a me è sempre affascinato molto tutta la faccenda di Curry anche rispetto alla sua identità che in America è un tema diciamo ineludibile identità sul piano etnico mentre Lebron è molto attivo è molto schierato è molto attivo in politica non che Curry non lo sia però ci furono tutta una serie di discorsi online sui social rispetto al fatto che Curry non fosse abbastanza nero però quella mica è una colpa sua no 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 però mi affascina molto come mi affascinano molto queste figure che giocano sempre in trasferta per certi versi lo vale anche per Obama non sei in casa tra i bianchi non sei davvero in casa nemmeno tra i neri ma infatti c'era questa cosa che mi sembra quando Lebron andò a vederlo la prima volta all'università disse andiamo a vedere sto ragazzetto bianco che dicono e lui quando lo racconta Steph ride tantissimo però alla fine effettivamente è una questione sensibile meno male lui la prende bene però nel sistema di valori interno ai giocatori dell'emba non è una cosa da poco quella no 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 poi in america puoi dire te lo chiedono nel censimento cioè la tua etnia non è una cosa che puoi mai dimenticare o che puoi pensare che tanto sono forte no no è il tuo primo biglietto alla visita e poi l'altra cosa di Lebron da un lato lui ha fatto cose molto positive come la scuola che ha fatto a Cleveland per i ragazzi del ghetto o comunque dei quartieri disagiati dall'altra quando ci fu il problema con la Cina fu abbastanza censurabile nel senso che beh a proposito del fatto che è un'azienda diciamo lì è un'ottima compagnia sì sì assolutamente una volta vedevamo i film di Hollywood di film d'azione e i cattivi erano i russi sì sì e poi quando ci fu il periodo di Al Qaeda i cattivi erano i terroristi islamici oggi non vedi mai dei film in cui i cattivi sono i cinesi sono dei paesi inventati perché sennò e che hanno investito non escono e allora amen pazienza sì 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 esatto però ad esempio di Jordan ancora si dice che disse no anche i repubblicani comprano le scarpe invece nessuno ricorda mai che Lebron sostanzialmente è come se avesse detto anche i cinesi comprano le scarpe esattamente esattamente questo è un po' il tema e quali altri grande personaggio americano o anche uomo o donna insomma ti affascina guarda allora molti tant'è che ora faccio fatica a dirtene uno perché poi sembra che sia però guarda il caso che sia coerente a me stesso quindi ti dico davvero Barack Obama beh notevole che personaggio secondo me incredibile per il tipo di percorso e anche per le sue qualità questo non vuol dire che la sua presidenza la sua amministrazione non abbia sbagliato niente anzi poi un presidente deve fare i conti con la realtà col congresso controllato dei repubblicani fai degli errori e ne ha fatti Obama diversi carisma incredibile comunque carisma incredibile oggi ci diciamo che lui ha sfondato un muro una porta il primo afroamericano alla presidenza ci è riuscito molto essendo lui io non credo che vedremo facilmente a breve un altro presidente afroamericano può essere magari eleggono Tim Scott l'anno prossimo e questo diventerà uno di quei video che poi circola sui social in eterno però mi sembra una cosa molto complicata nel modo in cui Obama gestì quel periodo ma anche semplicemente il periodo politico io consiglio di leggere il suo libro l'ultimo la prima parte del suo memoir una terra promessa sulla sua presidenza sulla sua vita è un uomo di un'intelligenza formidabile questo non vuol dire questo non ne fa necessariamente un bravo politico ripeto con delle idee che ci piacciono ma è evidentemente un uomo di un'intelligenza di una cultura incredibile e quindi diciamo è sicuramente una delle figure che più mi affascina che più mi interessa e che seguo più con attenzione mi piacerebbe che in questa sua nuova vita avesse voglia di fare qualcosa di più che l'influencer diciamo che un po' la sua il produttore cinematografico si fai film fai documentari fai il podcast con Springsteen è anche giusto che si diverta questo uomo però mi sembra che abbia ancora un contributo forte da poter dare però forse è vero anche che quando passi otto anni in quel circo e ti diventano i capelli tutti bianchi improvvisamente tutte quelle tensioni quello stress e hai la possibilità di fare una vita facile semplice in guadagnare un sacco di soldi vuol dire è difficile giudicare queste persone senza metterti nei loro panni sicuramente l'America avrebbe bisogno di un personaggio di questo genere adesso perché fra Trump questo narcisismo misurato inaffidabile eccetera Biden è molto anziano non è esattamente lucidissimo spesso sembra cioè manca un po' una figura che possa garantire sia gli Stati Uniti che quella parte del mondo che si affida agli Stati Uniti sì è un periodo di forte transizione credo che sarà ricordato così nel senso che la vittoria di Obama innesca questa fortissima reazione in un pezzo della società americana che vede la società cambiare vede che vede i bianchi diventare minoranza perché è quello che sta accadendo negli Stati Uniti che è già accaduto in molte città Obama eletto e rieletto è la dimostrazione plastica di quello che sta avvenendo ho detto anche dimostrazione plastica chiedo scusa e quindi si rifugia nella cosa più lontana che tu puoi immaginare dopo ma che è Trump un uomo che non ha mai letto un libro è un tamarro per eccellenza violento cioè l'esattamente l'opposto ideologicamente bianco prima ancora che diciamo sul piano etnico Trump perde le elezioni a forza di disastri di fatto la gestione della pandemia l'atteggiamento violento colpista l'associarsi all'estrema destra con l'elezione Trump la poteva vincere in carrozza quella del 2020 la perde beh c'è stato anche il covid però sì però il covid in quella fase lì ha rafforzato i governi Giuseppe Conte in Italia aveva un tasso di popolarità altissimo Trump poteva essere il commander in chief che Trump ha fatto però diciamo che per la cultura adesso non voglio difendere Trump però diciamo per la cultura italiana imporre lockdown le misure restrittive state imposte è un discorso noi non abbiamo una cultura liberale radicata in Italia per gli americani è molto più invadente questo è vero però un politico che ha diversi registri che riesce a gestire quella situazione che riesce a spiegare le cose che fa con anche in un modo un po' sofisticato nel senso di che fa il politico secondo me nella posizione di Trump ripeto i vaccini ce li abbiamo grazie a quell'investimento pazzesco del governo americano l'operazione War Speed l'economia americana andava benissimo gli americani tendono a rieleggere i presidenti il suo sfidante era Biden un personaggio comunque del passato anche un po' logoro Trump con l'elezione la poteva vincere tant'è che poi l'ha persa ma non di molto l'ha buttata via essendo diciamo inadeguato evidentemente a quell'incarico e oggi viviamo una sorta di come se il passato ci è rimasto attaccato alla gamba e non riusciamo a scrollarcelo perché Trump è in cerca di protezione perché finché è candidato lui riesce un po' a proteggersi dalle indagini non fosse altro perché raccoglie fondi e dice mi vogliono perseguitare e cerca vendetta lo dice apertamente che vuole vendicarsi di chi lo ha fatto fuori al giro scorso Biden è evidentemente molto anziano molto fragile gli occhi sottili la balbetta ancora di più di prima in certi momenti non sembra lucido poi in realtà chi c'è a che fare dice che anche tra i repubblicani dice che è perfettamente lucido e nel senso si dice sempre che molto anziano non si parla mai di come ha governato e Biden ha fatto il presidente in questi anni poi può piacerti o no ovviamente però non è stato un presidente senile assente riforme stanziamenti di fondi infrastrutture sono successi un sacco di cose nella rivalità con la Cina la politica estera la Nato gli americani hanno fatto moltissimo chiuderanno il 2023 con un tasso di crescita tra il 5 e il 6% cioè i tassi di crescita cinesi mentre la Cina invece è in grossa difficoltà vuole ricandidarsi diciamo è suo diritto nessuno nel partito lo vuole sfidare e questo è il nodo nel senso che non c'è un partito che decide in America chi si candida chi vuole candidarsi lo fa e nel partito democratico ci sono tanti potenziali candidati quarantenni cinquantenni che hanno talento e ambizioni ma non vogliono essere quello che sfida il presidente in carica spacca il partito se vinci vinci una campagna una primaria comunque complicata se perdi hai comunque perso hai pure elogorato Biden ma perché posso aspettare 4 anni o 48 anni chi me lo va a fare ma di solito si fa la primaria con un presidente in carica si fa sempre si fa per legge poi non ne sentiamo parlare perché spesso non c'è nessun candidato rilevante ma le fece Trump le fece Obama nel 2012 in qualche caso se c'è un presidente fragile ci sono anche dei candidati veri cioè Jimmy Carter fu sfidato da Ted Kennedy e vinse le primarie ma Ted Kennedy per se credo il 30% dei voti Gerald Ford fu sfidato da Ronald Reagan che perse però facendo vedere che c'era lì del talento infatti ve lo scelgono alla volta dopo se c'è un presidente fragile di solito si candidano anche nel suo partito e lo sfidano però questa volta questa volta non sta succedendo questa volta non sta succedendo perché Biden è visto come popolare abbastanza che è troppo pericoloso sfidarlo hanno paura di fare dei danni e quindi di indebolirlo in vista di una campagna contro Trump e anche quello è un pezzo della posta in palio perché sai se Biden perde le elezioni perché è anziano perché viene logorato eccetera e vince un repubblicano vuoi dire fa parte della democrazia fa parte del gioco non è però i democratici dall'altra parte hanno il rischio che torni al potere questa versione di Trump 2.0 non so come dire il Trump che vuole vindicarsi sarebbe una catastrofe da ogni punto di vista e quindi c'è la sensazione e la percezione che non puoi giocare col fuoco che non è questo il giro in cui fare la mattata di sfidare Biden tant'è che Ocasio Cortez ha già dato il suo sostegno a Biden cioè non è soltanto una questione dell'establishment del partito il partito è molto compatto nel dire comunque vada si va dritti con Biden e speriamo bene che vuol dire anche speriamo che non inciampi perché quello è il suo punto debole speriamo che che non abbia un momento Andreotti da Barbara D'Urso perché basta una roba così e Biden si è giocato alla rilezione certo già Hillary Clinton ebbe una cosa un malore in campagna contro Trump ai tempi ma e la Cina in tutto questo? la Cina in tutto questo fa non apertamente però se segue un po' le cose della politica estera eccetera fa abbastanza il tifo per Trump perché è stato un presidente molto più facile per la Cina Trump aveva una retorica molto dura e violenta il virus cinese Kung Fu virus razzista apertamente per certi versi a fronte della quale poi sul piano delle policy Trump ha isolato gli Stati Uniti dal resto del mondo ha ritirato gli Stati Uniti da una serie di rapporti commerciali con i paesi attorno alla scena dell'Indo-Pacifico Trump ha distrutto le relazioni degli Stati Uniti con l'Australia con la Corea del Sud col Giappone lasciando campo aperto campo libero alla Cina ha allogorato l'immagine degli Stati Uniti nel mondo l'Italia stessa firma il memorandum con la Cina durante il mandato di Trump e poi ha fatto sostanzialmente i dazzi che sono stati diciamo un grande trasferimento di denaro in sostanza dal governo federale agli agricoltori perché gli agricoltori pagavano i dazzi e il governo li rimborsava quindi diciamo non ha avuto grandi conseguenze Biden ha avuto una retorica pubblica molto più ovviamente politicamente corretta nei confronti della Cina e dei cinesi ma sul piano delle policy c'è andato giù durissimo vietando alle imprese americane di collaborare con le imprese cinesi soprattutto quelle a più alto tasso di innovazione riportando dentro la produzione dei semiconduttori con molta aggressività su Taiwan la Cina spera molto che Biden non venga rieletto e lo stesso vale per la Russia e per altri motivi anche perché la Cina attraverso un momento complicato il sistema immobiliare è una bolla che sta scoppiando la società enorme evergrande sta per fallire la produzione industriale non è quella di una volta la disoccupazione giovanile è altissima la Cina è in un momento davvero delicato della sua vita e della sua storia sì non ti ho convinto no no assolutamente io spero che sia così perché io ritengo che la Cina sia un grosso problema penso che se implementa dei metodi di controllo della popolazione tramite rating sociale tramite tecnologie tramite AI eccetera che funzionano e gli danno diciamo un vantaggio competitivo dal punto di vista economico è un problema per tutti molto importante quindi qua è proprio la sfida anche in termini di efficienza fra sistemi liberali e tecnodittature e se vince la tecnodittatura in Cina diventa un problema per l'umanità nel suo complesso secondo me io la penso come te ma non perché il sistema americano o il sistema diciamo guidato dagli Stati Uniti sia perfetto o non abbia prodotto soprattutto nel Novecento atrocità in un sacco di parti del mondo a cominciare dal Sud America però il sistema statunitense il sistema occidentale è un sistema che permette un sacco di libertà e di differenze anche gli stessi paesi alleati degli Stati Uniti cosa che con la Cina non succede rispetto alla libera stampa rispetto anche al ruolo che gli Stati Uniti hanno negli altri paesi in termini di influenza per che cosa premono per cosa spingono gli Stati Uniti per fare affari certo questo vale anche per la Cina ma difficilmente gli Stati Uniti difficilmente un eufemismo chiederanno a un governo X di perseguire un certo giornalista difficilmente lo minacceranno se tu sei un giornalista italiano e scrivi un articolo duro sulla Cina sulla stampa cinese l'ambasciata cinese fa dei comunicati di fuoco e hanno le stazioni di polizia informali in Italia ci sono tutta una serie di cose piuttosto inquietanti non della Cina in sé o dei cinesi ovviamente ma del regime che governa quel paese che ha costruito con i propri cittadini questo patto per cui vediamo la prosperità economica voi però diciamo accettate una serie di rinunce ora che la prosperità economica scricchiola un po' questo patto sta avvenendo un po' meno e ci ricordiamo le proteste contro il lockdown il fallimento della Cina nel contenere il virus senza parlare diciamo dell'origine che è una questione enorme ma nel contenimento la Cina faceva ancora dei lockdown terrificanti quando noi eravamo già molto fuori questo patto che lì si sta rompendo la Cina però cerca di costruirlo e di imporlo in tutti i paesi in cui va a costruire infrastrutture costruendo questi rapporti di dipendenza basati sul debito o ha delle relazioni diplomatiche e si rifiuta di esercitare il ruolo di superpotenza vero se non in un modo che è fate quello che vi pare cioè l'atteggiamento della Cina nei confronti della Russia è finché commerciate con noi e ci date il petrolio fate quello che vi pare nei giorni della nuova guerra tra Israele e Hamas l'atteggiamento della Cina è noi siamo contro l'escalation ma non c'è nessuna volontà di intervenire non militarmente ovviamente ma di diplomaticamente e fare qualcosa ed essere dei mediatori beh chiaramente se ci fosse un escalation adesso poi magari quando uscirà questa puntata ci sarà già stata ma in questo momento non c'è ancora stata e la Cina ha solo da guadagnarci cioè beh certo che comunque due fronti aperti per gli Stati Uniti e per l'Occidente e qui in contemporanea molto grandi sono sono un problema grosso sia economico sia proprio strategico sì ma al di là del fatto che tutto questo comporta un grande cinismo e comporta un decidere appunto di non esercitare quella leadership se non in modi che tossici nei confronti del pianeta della comunità internazionale non funziona nel senso che la Cina ha avuto questo a fasi di enorme sviluppo economico generato dal fatto che che l'Occidente ha cominciato a utilizzarla come la fabbrica del mondo però diciamo dopo averla fatta entrare nel WTO e accettando una serie di scorrettezze che la Cina ha fatto per decenni senza che nessuno dicesse nulla manipolare la valuta il furto della proprietà intellettuale e via dicendo e poi investimenti dello Stato città nate da zero investimenti soprattutto immobiliari che hanno dato lavoro a un sacco di persone quella macchina adesso si è interrotta non funziona più un paese così dovrebbe essere sostenuto adesso dai consumi interni ma la leadership cinese lo dice apertamente noi non vogliamo un'economia basata sui consumi perché ci farebbe diventare americani e però allora dove li prendi i soldi per far funzionare questo posto ormai così rilevante colossale nell'economia mondiale sì la sfida sposta un po' il discorso dal punto di vista filosofico è fra il liberalismo che è in grado di generare grandissima ricchezza e anche un grado di libertà che non sarà assoluto perché di assoluto non c'è niente ma comunque è elevato il più elevato al mondo e dall'altra dei sistemi illiberali che però hanno ancora e che poi è il motivo per cui trovano anche dei seguaci improbabili in occidente quasi un afflatto teologico cioè danno senso forzato alle persone cioè li fanno credere nella nazione o nel partito o nella razza o nella loro etnia e questo comunque sugli umani ha un appeal e spesso dove il sistema occidentale arriva un po' corto è nel creare senso nel creare identità mentre è molto è il sistema più efficiente mai scoperto per creare invece ricchezza e libertà la cosa che facevo prima la battuta su non ci sono milioni di persone che rischiano la vita ogni giorno per tentare di entrare in cina è un pezzo della risposta in parte si deve questo anche al proprio gli standard di qualità della vita raggiunti in occidente noi ci raccontiamo con nostalgia a volte degli anni del boom economico del post guerra i nostri genitori i nostri nonni hanno visto le loro vite cambiare radicalmente nell'arco di una generazione e ci hanno lasciati a un punto molto alto di qualità della vita dei servizi rispetto alla storia dell'umanità un punto così alto dal quale è difficile fare un salto come il loro se pensiamo che i nostri nonni non mangiavano la carne se non una volta alla settimana non avevano il frigorifero avevano un'età media molto più bassa della nostra e quindi noi vediamo la nostra condizione di vita stagnanti nel migliore dei casi in certi casi ci diciamo i figli stanno peggio dei genitori e vediamo questi paesi che stanno avendo oggi questa fase di boom e di crescita li vediamo così dinamici li vediamo costruire sono assomigliano all'italia che dagli anni 40 ai anni 60 guadagna 15 milioni di abitanti e vediamo anche grazie al nostro autoracconto pessimista e vittimista alla propaganda poi di questi stati che sono molto forti in tutto questo a quella diciamo debolezza di pensiero un po' nella costruzione dell'identità di cui parlavi tu prima e li vediamo come dei posti beh certo che in Cina vorremmo essere governati da uno come Putin oggi si dice un po' meno ma fino a qualche anno fa era piuttosto popolare c'erano le pagine dei meme c'era Salvini con la maglietta di Putin però poi io non conosco diciamo fenomeni del Kodal frontiera russa per accogliere gli italiani poi in realtà non ci andiamo a vivere mai in questi posti non andiamo a vivere mai in Turchia in Russia in Cina in massa e anzi al contrario le nostre città hanno ormai tutte delle comunità cinesi numerosissime i russi vengono a fare le vacanze qua noi non andiamo a fare le vacanze in Russia e quindi è proprio una questione di debolezza intellettuale secondo me più che di crisi dei modelli ripeto poi questo non vuol dire che da nuovo vada tutto bene anzi però vuoi fare a cambio i numeri ci dicono che poi le persone non vogliono davvero fare a cambio sì questo è in dubbio a livello di sovrastruttura di sarei un po' più dubbioso perché comunque l'occidente è anche imbattibile nel giustamente nel criticarsi e portare questa critica poi anche a dei livelli un po' a lattafazzi fondamentalmente c'è un po' questa questa deriva poi in Italia particolarmente siamo campioni in questo scusami in modo non proattivo nel senso i grandi scandali e le grandi vergogne avvengono anche in Europa e negli Stati Uniti certo però ogni volta che c'è uno scandalo negli Stati Uniti le torture da bugraib quello che tu vedi è che ci sono quattro giornali che fanno a gara per scoprire i segreti e tirarli fuori e dire chi sono i responsabili e poi dopo un anno esce il film a Hollywood e questo procedimento di cui noi vediamo il film e gli articoli ma che comporta un percorso collettivo del paese di trasformazione non deve mai più succedere cambiamo la legge cambiamo il dipartimento ed è un percorso collettivo che prende atto dello scandalo che esiste da noi e dice facciamo in modo che non capiti più non solo da quelle parti invece lo scandalo viene insabbiato seppellito eccetera quindi non c'è paragono da noi in Europa soprattutto questo tipo di narrazione quasi mai ci serve con l'idea all'idea di allora cambiamo le cose allora facciamo sì che non capiti più ma ci piangiamo un po' addosso è vero però meno male che ancora si fa cioè senza senza esagerare poi farò diventare manierista ma ci pensavo proprio qual è la differenza ancora che rende l'Italia un paese occidentale da questo punto di vista è il fatto che le cose prima o poi vengono fuori magari non vengono fuori subito vengono fuori più lentamente che in altri paesi è più faragginoso e questo per le vittime è pesante fa tutta la differenza del mondo però prima o poi viene fuori tutto e non si può dire di questi altri paesi invece dove ci sono delle dittature lì le cose scompaiono le cose vengono fuori ce ne accorgiamo anche perché poi ne vediamo le conseguenze non parlo qui soltanto del singolo caso lo scandalo la grande questione ma i nostri medici sono sottopagati noi possiamo decidere di non fare nulla e di lasciare il problema così e pazienza si arrangino finché non scopriamo che i medici cominciano ad andare all'estero si dimettono dal servizio sanitario nazionale vanno a fare i cosiddetti gettonisti gli insegnanti che non riescono a diventare insegnanti in Italia perché la procedura burocratica è allucinante vanno a farsi fare l'abilitazione in Romania cioè c'è un limite oltre il quale i problemi vengono fuori però poi noi abbiamo una capacità di indagine di racconto degli insegnanti che vanno a fare l'abilitazione in Romania dei medici che non vogliono più fare i medici di pronto soccorso hanno fatto l'ultimo concorso per le borse di specializzazione aveva 900 posti hanno avuto 200 candidati perché vengono pagati poco è un lavoro pericoloso oggi con le aggressioni che hai è un lavoro ingrato però manca la parte del dire ok cambiamo sta cosa cioè ci servono i medici però è la cinghia di trasmissione con la politica anche cioè una volta che viene fatta la denuncia poi dovrebbe essere spesso la politica non sa quello di cui si occupa non conosce nello specifico il settore di cui si occupa un determinato ministero un determinato comparto politico questo è stato molto evidente con il 5 Stelle ad esempio ma non è solo un problema il 5 Stelle cioè tu per agire concretamente nella realtà devi conoscere quali sono i problemi di quella realtà altrimenti il tuo orientamento politico ideologico sì vabbè ti darà delle informazioni di massima ma poi il problema concreto va risolto conoscendo quel problema altrimenti quella cosa ce l'hai se c'è effettivamente non se la cinghia funziona se c'è la cinghia cioè che fa sì che le esigenze delle persone arrivino nei palazzi cosiddetti tramite le elezioni la rappresentanza in Italia questa cosa non c'è più e non voglio fare io non penso che sia meno una dittatura in un regime eccetera però noi non abbiamo oggi nessun tipo di controllo voce in capitolo su chi viene eletto in Parlamento cioè quel legame tra l'elettore e l'elettore non esiste più all'ultima elezione abbiamo votato con una legge elettorale così complicata che non l'ha capita nemmeno nel Ministero dell'Interno tanto che ha certificato dei risultati sbagliati e ha dovuto poi fare una verifica perché c'erano due parlamentari cioè era una roba assurda le candidature multiple le liste bloccate oggi sono i leader dei partiti che decidono chi va in Parlamento e noi attraverso il nostro voto al massimo stabiliamo la quota proporzionale di seggi che prendono ma non abbiamo nessun controllo su chi va in Parlamento e quindi quella cinghia non esiste più perché in Piemonte è stato eletto parlamentare uno che è sardo e l'hanno messo lì perché l'hanno messo a capolista così veniva eletto e questo manco ci va mai in Piemonte dico delle cose a caso però non funziona non funziona nessun parlamentare pensa se non non so se questa elezione fu eletta mi si chiama braccio destro di Renzi Boschi a Boschi notte altottesina da generazioni ma esempi come questi non trovi quanti ne vuoi è chiaro che Boschi non può essere interprete delle esigenze degli altottesini anche se decide con buona volontà di andare lì una volta alla settimana non è espressione di quel territorio e se si rompe quel legame lì i politici non hanno interesse a dare risposte alle persone perché altrimenti non vengono rieletti vengono rieletti se si ingraziano quello che farà le liste al giro prossimo si si no è chiaro è chiaro e questo poi finisce per creare frustrazione perché comunque magari la notizia esce ancora il disagio viene comunicato eccetera però non succede niente e quindi sei in un territorio di mezzo no? nella dittatura non esce proprio nel sistema che funziona esce e si fa qualcosa nel nostro magari esce non si fa niente quindi la prestazione va alle stelle ed è una cosa piuttosto mesta perché poi senza voler fare della retorica ma siamo un paese che ha un miliardo di risorse siamo ancora l'ottava la nona economia del mondo facciamo noti in tutto il mondo noi al contrario della Russia facciamo delle cose che tutto il mondo vuole comprare cioè la Russia c'è il gas il petrolio e basta la vodka nessuno vuole nessuno vuole comprare dei prodotti russi ne facciamo un sacco di cose che hanno un valore per il mondo sul piano culturale ma non solo di industria pesante di meccanica abbiamo una cultura per essere un paese così piccolo rispetto a tanti altri influentissima la Corea del Sud negli ultimi anni ha esportato una serie di prodotti culturali che non sono soltanto delle potenze economiche dai BTS alla skin care a Parasite al cinema ma che attirano attenzioni investimenti turismo cambiano quei paesi l'Italia potrebbe essere una cosa ancora più grossa ma è un paese che non riesce a risolvere dei problemi così fondamentali come appunto non abbiamo medici insegnanti è un paese che fa molta fatica poi anche a a darsi quel tipo di slancio perché continuamente ripiegato su se stesso secondo te riflettendo storicamente quando è iniziato questo genere di declino se c'è un momento in cui inizia uno storico sarebbe più competente di me però credo intorno agli anni 80 anni 80 anni 90 dopo gli anni 70 che sono stati anni in Italia complicati violentissimi anni in cui c'era evidentemente la necessità di un cambiamento politico che non poteva avvenire perché l'Italia era il paese col partito comunista più grande d'Europa e il partito comunista non poteva vincere le elezioni perché era un partito affiliato a Mosca avrebbe cambiato l'allineamento del paese e questo provoca quelle tensioni violentissime le brigate rose il terrorismo la strategia della tensione eccetera si arriva agli anni 80 in cui questa sorta di pacificazione o relativa pacificazione non si abbina nemmeno in quel caso a un'evoluzione del sistema politico che poi va a marcire in quello che sarebbe diventato tangentopoli e che anzi gode di quella pacificazione in un momento di grandissima spesa pubblica debito pubblico pazzesco decide di ubriacarsi della fine di quegli anni duri con la complicità della politica ma non solo e sono anni in cui dopo 14 anni di lavoro i dipendenti pubblici vanno in pensione succedono delle cose incredibili all'epoca da lì arriva il marcio di tangentopoli che produce l'antipolitica che produce tutto quello che abbiamo il berlusconismo eccetera da lì arriva il debito pubblico colossale che abbiamo oggi che io prima parlavo di edilizia popolare o di medici ma oggi in Italia non è che può dire facciamo un grande piano e spendiamo 100 miliardi e costruiamo più case popolari o perché quel debito pubblico ce l'abbiamo sul groppone e si innescano lì secondo me una serie di meccanismi il debito pubblico poi tra l'altro non è solo un problema finanziario che è già un problema enorme ma è proprio un problema culturale perché tu hai creato per decenni delle situazioni che non sarebbero mai esistite senza il debito e quindi quello poi diventa una forma mentis cioè diventa al contrario della produttività dell'idea di creare di inventare qualcosa di nuovo perché tanto arrivano questi soldi un po' dal nulla e va bene così diamo a destra e a sinistra poi in alcuni casi saranno stati anche usati per finanziare i servizi necessari però diciamo quando arrivi al livello che abbiamo noi tanti dai sprecati oggettivamente bene noi abbiamo un debito pubblico di dimensioni paragonabili a quelli di paesi che sono falliti o che sono andati vicini al fallimento la Grecia l'Argentina paesi che hanno vissuto a lungo al di sopra delle proprie possibilità e non perché avevano dei servizi di grande qualità ma perché la politica utilizzava il denaro pubblico per ungere le situazioni per risolvere i problemi per creare consenso spendendo senza creare delle situazioni che funzionino questa cosa culturale in parte esiste ancora oggi nel senso che se ci sono i trasporti pubblici che non funzionano invece che stanziare dei fondi per riformare per migliorare il trasporto pubblico il governo fa il bonus bici bonus monopattino la gente ha pochi soldi per andare in vacanza invece di creare un mercato del lavoro per cui crescano gli stipendi bonus vacanze la dinamica dei bonus è devastante però anche lì è anche proprio devastante culturalmente non solo finanziariamente perché c'è l'idea che a un certo punto è stato di da una cosetta così sei tranquillo e non ti lamenti e abbiamo gli stipendi che non crescono da 30 anni poi che più gente vada in vacanza quella roba lì deve cambiare devono crescere gli stipendi però far crescere gli stipendi è complicato non è che fai una legge devi creare un'economia che sia più attrattiva più competitiva più produttiva quindi togliere la burocrazia eccetera è più facile dire vabbè bonus vacanze 300 euro a famiglia quelle più povere e però non hai risolto niente hai speso dei soldi in modo sostanzialmente improduttivo e hai aggravato quel problema che continua anzi a ingrandirsi dietro di noi e com'è l'Italia fra dieci anni secondo te? dieci anni è un orizzonte troppo breve per pensare a grandi stravolgimenti e quindi credo come oggi con dei problemi un po' più gravi questi problemi che oggi abbiamo appunto di servizi pubblici insufficienti mi piacerebbe pensare che li risolviamo in dieci anni però non credo non solo tra dieci anni noi saremo un paese ancora un po' più anziano questo ce lo dicono i dati di natalità anche oggi e quindi saremo un paese che avrà bisogno di pagare ancora più pensioni con ancora meno persone che lavoreranno per pagare quelle pensioni un paese che avrà bisogno di più cure mediche perché un paese di pensione ha bisogno di più medici avendone però sempre di meno non siamo in un bel in un bel momento e credo che fatichiamo anche un po' non voglio essere catastrofista però fatichiamo anche un po' a vedere quanto sia grave la cosa che abbiamo dietro la curva perché io oggi pago come te come tutti noi che lavoriamo un sacco di contributi quei soldi lì non è che vanno a finire in una cassaforte che quando andiamo in pensione aprono e ci dicono quelli sono i soldi che ti ho messo da parte quei soldi li stanno pagando alla pensione di mia mamma va benissimo così sono felice perché mia mamma ha lavorato tutta la vita merita di avere la pensione però anche lei aveva pagato i contributi dove sono finiti quei soldi certo quando andremo noi in pensione e questo questo squilibrio se non lo invertiamo sarà ancora più largo e saremo così di pensionati e così di lavoratori chi ce la paga la pensione a noi e avremo bisogno dei medici perché saremo tutti anziani vivremo a lungo e dove stanno sti medici dobbiamo scommettere sul fatto che la I renda le cure mediche molto molto poco costose ma speriamo per certi non so se lo bisogna sperarlo però chiudiamo con dell'ottimismo sì un po' di tecno-ottimismo l'unica cosa veramente ottimista che penso è che se tu ti metti qui a Roma fuori da una scuola all'orario dell'uscita vedi uscire delle persone dei ragazzini con le facce di tutti i colori e vedo quindi una generazione che sta crescendo che probabilmente avrà un rapporto con lo straniero diverso dal nostro anche dalla nostra generazione nella mia classe a scuola ma anche l'università non c'era nessuno che non fosse bianco oggi è molto normale avere dei compagni di scuola di classe che sono che hanno sei tu? sono del 84 tunisini marocchini polacchi è molto normale e allora mi viene da pensare che quella generazione avendo un rapporto diverso con l'immigrazione potrà fare una politica sull'immigrazione attiva oggi le nostre politiche sull'immigrazione sono tutte rivolte a fermarla mentre invece noi dovremmo mettere dei cartelli su ogni ambasciata italiana dicendo sei un medico sei un ingegnere vieni a vivere in Italia con tutte le procedure poi di sicurezza di integrazione complesse delicate che bisogna fare in questi casi non è che ti capriamo le porte a chiunque però dovremmo cercare di governarla attirando persone e forse la prossima generazione le prossime generazioni saranno un po' più attrezzate della nostra sì questa è una cosa che non ha fatto nessuno né a destra né a sinistra negli ultimi anni cioè l'idea di governare il fenomeno anche in una prospettiva futura credo sì sai per una questione di razzismo nel senso da lì non se ne esce o incompetenza anche sì ma è troppo facile ottenere dei consensi con la paura del diverso non è nemmeno il senso il razzismo nel 2023 è una colpa però noi siamo una società che è sempre stata molto omogenea sul piano etnico e mi rendo conto che la storia ci dice che è difficile per la società accettare beh è vero però comunque fra i popoli europei cioè con tutte le diverse presenze che abbiamo avuto sul nostro territorio geneticamente siamo abbastanza vari sì però deve andare piuttosto indietro nel tempo sì cioè non siamo gli Stati Uniti però diciamo fino a vent'anni fa se tu andavi o trent'anni fa in Germania o anche la stessa vabbè Francia è un po' diverso però diciamo c'erano dei tipi fisici molto riconoscibili in Italia c'è sempre stata più varietà sì questo è vero diciamo sai la Francia diceva in eccezione ed è vero per certi versi anche la Spagna e il Portogallo i paesi che hanno avuto dei grandi imperi coloniali il Regno Unito hanno una maggiore dimestichezza con i diversi gli stranieri rispetto alla maggioranza però sì è vero non è che questo sia un destino ineludibile ci sono paesi che hanno affrontato con un po' più di coraggio queste trasformazioni dobbiamo pensare che essere italiani non è una questione di sangue ma perché davvero non lo è perché sennò essere nati qui di per sé il neonato che nasce oggi è italiano è un neonato è semplicemente il neonato essere italiani è una questione a che fare con la cultura con il rapporto che ha col tuo territorio con i valori che hai con la storia che hai in quanto ti ci riconosci e quella cosa lì la creiamo noi la crea la scuola la crea la televisione pubblica la creano le città e la possiamo fare facendo diventare costruendo italiani anche in persone che hanno un colore della pelle diverso da quello della maggioranza ma sono nati in Italia vogliono vivere in Italia perché non devono essere italiane certo va bene Francesco grazie grazie mille grazie a te